Un'opera cruciale, la strada regionale 429 indirittura d'arrivo da Empoli fino a Dogana è già una realtà e proprio nelle scorse ore è stato aggiudicato il quarto lotto da Dogana a Castelfiorentino. Il sopralluogo sul quinto lotto con l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, il delegato ai lavori pubblici per la città metropolitana e il sindaco di San Casciano Massimiliano Pescini ha permesso di constatare l'avanzamento dei lavori. La nuova viabilità è importante anche perché consente di liberare diverse frazioni dal traffico dei mezzi pesanti, esultano i sindaci di Empoli e Castelfiorentino. Potremmo dire alla fine di questi cinque anni di mandato che abbiamo collegato finalmente l'Empolese e la Val d'Elsa con una strada degna di questo nome, con un beneficio indubbiamente dal punto di vista economico per tutto il territorio. è quello che attendevano da tempo fosse concluso, ne abbiamo concluso una parte che è quella relativa ai lotti 6 e 5, ma è quella che ricollega finalmente il comune di Castelfiorentino con una via di comunicazione di livello superiore al resto del territorio. La città metropolitana anche dopo il commissariamento ha continuato a fornire tutto il supporto amministrativo e tecnico che era previsto nella legge per il commissariamento e quindi abbiamo coadiuvato con i nostri uffici, anche se fosse per tutto il sistema delle gare che è stato redatto a cura della città metropolitana e per l'aiuto tecnico con i nostri funzionari al commissario si vede quanto lavoro abbiamo fatto.